È con cuore greve che prendo la penna per scrivere queste parole, con le quali ricorderò per l'ultima volta le singolari doti che caratterizzavano il mio amico Sherlock Holmes. Senza seguire un filologico, e ne sono profondamente convinto, in un modo del tutto inadeguato, mi sono sforzato di raccontare alcune esperienze che ho vissuto in sua compagnia, dalla prima volta che il destino ci accomunò all'epoca dello studio in rosso, al suo coinvolgimento nel caso del Trattato Navale. Il coinvolgimento grazie al quale fu possibile evitare una seria complicazione internazionale. Era mia intenzione fermarmi a questo punto e non fare cenno all'avvenimento che ha creato un vuoto nella mia vita ancora terribilmente doloroso, anche se sono già trascorsi due anni. Tuttavia, la mia mano è stata forzata dalle recenti lettere nelle quali il colonnello James Moriarty difende la memoria del fratello, e di conseguenza non mi resta altra scelta che esporre pubblicamente i fatti così come si sono verificati. Io solo conosco l'assoluta verità della vicenda e sono convinto che è arrivato il momento in cui tenerla nascosta non porterebbe a niente di buono. Che mi risulti, sulla stampa sono apparsi solo tre resoconti dell'accaduto. Uno sul giornal de Ginev del 6 maggio del 1891, il comunicato della Roteur ai giornali inglesi in data 7 maggio e, per finire, le recenti lettere alle quali ho all'uso. Di questi, la prima e la seconda comunicazione erano estremamente condensate, mentre l'ultima è, come ora dimostrerò, un assoluto stravolgimento dei fatti. E ora voglio dire per la prima volta che cosa veramente accadde fra il professor Moriarty e il signor Sherlock Holmes. Forse è opportuno ricordare che, dopo il mio matrimonio e l'apertura dello studio medico, i rapporti molto intimi che erano esistiti fra Holmes e me subirono alcune modifiche. Lui veniva ancora ogni tanto a trovarmi, quando desiderava un compagno nelle sue indagini, ma a tali occasioni diventavano sempre più rare, finché, nel 1890, ci furono soltanto tre casi, dei quali presi nota. Durante l'inverno di quell'anno e l'inizio della primavera del 1891, lessi sui giornali che aveva ricevuto un incarico dal governo francese in merito a una questione estremamente importante e, successivamente, ricevetti da lui due missive, da Narbonne e da Nîmes, dalle quali ricavai l'impressione che il soggiorno in Francia si prospettava lungo. Fu con una certa sorpresa, pertanto, che lo vidi entrare nel mio studio la sera del 24 aprile e rimasi penosamente colpito nel vederlo più pallido e magro del solito. «Sì, in effetti sto abusando un po' troppo delle mie forze», commentò in risposta al mio sguardo più che alle mie parole. «Ma ultimamente sono stato un po' sotto pressione. Avete obiezioni al fatto che vada a chiudere le persiane?» L'unica luce della stanza arrivava dalla lampada del tavolino di lettura. Holmes si avvicinò alla finestra procedendo lungo le pareti e, avvicinate le persiane, le bloccò con il gancio. «Avete paura di qualcosa?» domandai. «Sì». «E di che cosa?» «Dei fucili ad aria compressa, amico mio». «Mio caro Holmes, ma che cosa volete dire?» «Credo che mi conosciate abbastanza bene, Watson, per capire che non sono assolutamente un uomo nervoso. Ma nel medesimo tempo è stupidità più che coraggio rifiutare di riconoscere il pericolo quando incombe su di voi. Posso disturbarvi per un cerino?» Prese ad aspirare il fumo della sigaretta, come se ciò avesse un benefico effetto tranquillante. «Devo scusarmi per essere capitato qui a quest'ora tarda», disse. «E inoltre devo pregarvi di essere così anticonvenzionale da consentirmi d'andarmene da casa vostra scavalcando il muro del giardino sul retro?» «Ma perché mai?» domandai. Holmes tise la mano e, alla luce della lampada, vidi che due nocche erano escoriate e sanguinanti. «Come vedete, si tratta di qualcosa di molto concreto», spiegò con il sorriso. «Anzi, sufficientemente solido per rovinarsi una mano». «La signora Watson è in casa?» «No, è uscita a fare una visita». «Davvero? Siete quindi solo?» «Sì, solissimo». «Allora mi sarà più facile proporvi di venire per una settimana sul continente con me». «E dove?» «Ah, ovunque. Per me è lo stesso». In tutto questo c'era qualcosa di molto strano. Non era nell'indole di Holmes prendersi una vacanza immotivata e qualcosa nel suo volto pallido e tirato mi diceva che i suoi nervi erano al massimo della tensione. Lui mi lesse negli occhi la domanda e, avvicinando i polpastrelli e appoggiando i gomiti sulle ginocchia, mi spiegò la situazione. «Probabilmente non avete mai sentito parlare del professor Moriarty», esordì. «No, mai!» «Ecco la genialità e l'eccezionalità di tutta la faccenda», esclamò. «Quell'uomo invade Londra e nessuno ne ha sentito parlare. Ecco che cosa lo pone in cima a una guglia nella storia del crimine. Vi dico, Watson, in tutta serietà, che se solo riuscissi a sconfiggere quell'uomo, se fossi in grado di liberare la società dalla sua presenza, avrei la sensazione che la mia carriera sia giunta all'apice e sarei disposto a lasciarmi andare a un'esistenza più tranquilla». Detto fra noi, i recenti casi nel corso dei quali ho dato il mio supporto ai regnanti di Scandinavia e alla Repubblica di Francia mi hanno lasciato in condizioni economiche tali da potermi permettere di vivere senza problemi nel modo tranquillo che mi è congeniale e di concentrare la mia attenzione sulle ricerche chimiche che mi stanno tanto a cuore. Ma non potevo riposare a Watson. Non potevo starmene tranquillo sulla sedia se pensavo che un uomo come il professor Moriarty passeggiava per le strade di Londra senza che nessuno cercasse di ostacolare le sue azioni criminose. Che cosa avrebbe mai potuto fare? La sua è stata una carriera straordinaria. È un uomo di buona famiglia e di ottima cultura che la natura ha dotato di un eccezionale intuito matematico. All'età di 21 anni scrisse un trattato sul teorema binomiale che ha suscitato l'interesse di tutta Europa. Grazie a quella pubblicazione ottenne la cattedra di scienze matematiche presso una delle nostre università minori e tutto faceva ritenere che avesse dinanzi a sé una brillante carriera, ma aveva tendenze ereditarie assolutamente diaboliche. I geni criminali gli scorrevano nelle vene, potenziati e resi infinitamente più pericolosi dalle sue straordinarie facoltà mentali. Nella città universitaria cominciavano a correre strane voci sul suo conto e alla fine fu costretto a rinunciare alla cattedra e venire a Londra dove si mise a fare l'istruttore militare. Questo è quanto comunemente si sa di lui, ma ora le dirò ciò che io personalmente ho scoperto. Come lei sa, Watson, nessuno meglio di me conosce l'ambiente londinese del crimine di alta classe. Per anni mi sono reso conto che dietro i malfattori agiva una qualche potenza, una forza organizzatrice in perenne contrasto con la legge che faceva da scudo ai malfattori. Più e più volte, nei casi più disparati, falsi rapine e omicidi, ho avvertito la presenza di questa forza e ne ho dedotto l'intervento in molti di quei crimini insoluti per i quali non sono stato direttamente consultato. Per anni ho tentato di squarciare il velo dietro cui si celava e finalmente un bel giorno afferrai il bandolo della matassa e lo seguì fino a quando, dopo migliaia di astute tortuosità, mi condusse all'ex professor Moriarty di matematica fama. Quell'uomo Watson è il Napoleone del crimine, l'organizzatore di metà delle imprese malvagie e di quasi tutte quelle ignorate in questa grande città. È un genio, un filosofo, un pensatore astratto. Ha un cervello di primo ordine. Se ne sta immobile, come un ragno al centro della sua tela, ma quella tela ha mille raggi, di cui egli conosce ogni minimo tremolio. Non agisce di persona, si limita a pianificare, ma i suoi agenti sono numerosi e splendidamente organizzati. Se c'è un crimine da compiere, un documento da rubare, poniamo, una casa da svaligiare, una persona da eliminare, si passa la parola al professore e l'impresa viene organizzata e portata a termine. Può darsi che la gente venga catturato, e in quel caso è pronto il denaro per la cauzione o per la difesa. Ma il Deus Ex Machina che si serve della gente non viene mai preso. Non viene mai nemmeno sospettato. Questa, Watson, è l'organizzazione la cui esistenza mi è stata rivelata dalle mie deduzioni. E ho dedicato tutta la mia energia al compito di smascherarla e sgominarla. Ma il professore si era creato un muro di protezione in maniera talmente scaltra che per quanti sforzi facessi sembrava impossibile ottenere quelle prove che lo avrebbero condannato in tribunale. Lei conosce le mie facoltà, Watson, eppure dopo tre mesi fui costretto ad ammettere di aver incontrato un antagonista del mio stesso livello intellettuale. Il mio orrore per i suoi crimini cedeva il passo alla mia ammirazione per le sue doti, ma alla fine commise uno sbaglio. Un piccolo, piccolissimo sbaglio che però non poteva permettersi con me che praticamente gli stavo addosso. Era la mia occasione e da quel momento ho intessuto intorno a lui la mia rete che ora è pronta a chiudersi. Fra tre giorni, vale a dire lunedì prossimo, i tempi saranno maturi ed il professore, con tutti i suoi accoliti principali, sarà nelle mani della polizia. E avremo allora il più sensazionale processo criminale del secolo, la soluzione di oltre quaranta casi misteriosi e il capestro per tutti quei malviventi. Ma se facessimo una mossa appena appena prematura, potrebbero sfuggirci di mano anche all'ultimo momento. Ora, se io avessi potuto agire senza che il professor Moriarty ne venisse a conoscenza, sarebbe andato tutto bene. Ma è troppo astuto. Ha seguito passo passo ogni mio gesto per prenderlo nella rete. Ha ripetutamente cercato di uscirne fuori, ma altrettante volte io gliel'ho impedito. Le assicuro, amico mio, che se si potesse scrivere un resoconto dettagliato di questa lotta silenziosa, sarebbe il miglior esempio di duello all'ultimo sangue nella storia dell'indagine criminale. Mai avevo raggiunto tali altezze, né mai un nemico mi aveva stretto così da presso. Sono riuscito a parare ogni suo affondo. Questa mattina avevo compiuto gli ultimi passi e mancavano solo tre giorni al completamento dell'impresa. Stavo seduto in soggiorno a riflettere sulla situazione quando si è aperta la porta e mi son trovato davanti il professor Moriarty. I miei nervi sono ben saldi, Watson, ma devo confessare che ho avuto un sussulto nel vedere proprio l'uomo che ossessionava i miei pensieri lì sulla mia soglia. È un tipo molto alto, magro, con la fronte bianca a cupola e gli occhi profondamente infossati. Le spalle gli si sono incurvate per il troppo studio e il volto è proteso in avanti. Oscilla perennemente da un lato all'altro come la testa di un serpente. Lui mi osservò con estrema curiosità e socchiuse gli occhi. «Le sue bozze frontali sono meno marcate di quanto mi sarei aspettato», disse finalmente. «È pericoloso giocarellare con armi da fuoco cariche nella tasca della veste da camera?» Il fatto è che, al suo ingresso, mi ero immediatamente reso conto del pericolo in cui mi trovavo. L'unico modo che aveva per sfuggirmi era quello di chiudermi per sempre la bocca. In un lampo avevo preso il revolver dal cassetto facendomelo scivolare nella tasca della vestaglia e puntandolo su di lui attraverso la stoffa. Al suo commento lo tirai fuori, tolsi la sicura e lo appoggiai sul tavolo. Lui continuava a sorridere strizzando gli occhi, ma c'era qualcosa nel suo sguardo per cui mi sentì ben lieto di avere l'arma a portata di mano. «Lei evidentemente non mi conosce», disse. «O al contrario», risposi. «Mi sembra abbastanza ovvio che io la conosca. Prego, si accomodi. Posso dedicarle cinque minuti se ha qualcosa da dirmi». «Tutto quello che ho da dirle, lei lo ha già intuito», disse. «E allora probabilmente le sue domande si sono incrociate con le mie risposte», replicai. «Lei è deciso?» «Decisissimo». Si ficò una mano in tasca e io presi la pistola dal tavolo, ma si limitò a tirarne fuori un tacquino sul quale aveva scarabocchiato alcune date. «Lei ha attraversato la mia strada il 4 gennaio», disse. «Il 23 mi ha procurato delle noie, che si sono fatte ancor più spiacevoli alla metà di febbraio. Alla fine di marzo i miei piani erano decisamente ostacolati e adesso, alla fine di aprile, la sua incessante persecuzione ha fatto sì che io corra il serio rischio di perdere la mia libertà. La situazione sta diventando insostenibile». «Ha qualche suggerimento in proposito?» gli chiesi. «Lei deve smetterla, Holmes», rispose sempre dondolando il viso di qua e di là. «Deve proprio smetterla, sa?» «Dopo lunedì», gli risposi. «Andiamo, andiamo», disse. «Sono certo che un uomo della sua intelligenza si renda conto che questa faccenda non può avere che un'unica soluzione. Lei deve ritirarsi. Ha sistemato le cose in modo tale che a noi non rimanga che un'unica via d'uscita. È stato per me un vero godimento intellettuale vedere come lei abbia affrontato questo stato di cose e le assicuro in tutta sincerità che sarei veramente desolato se mi trovassi costretto a ricorrere a rimedi estremi». «Lei sorride, signore, ma le garantisco che è così». «Beh, il pericolo fa parte del mio mestiere, osservai». «Qui non si tratta di pericolo, ma di inevitabile annientamento», disse. «Lei sta intralciando la strada non solamente a una singola persona, ma a una potente organizzazione, la cui ramificazione nemmeno lei, con tutta la sua intelligenza, è riuscito ad immaginare». «Deve elevarsi di torno, signor Holmes, o sarà calpestato». «Temo proprio», risposi alzandomi, «che il piacere di questa conversazione mi stia facendo dimenticare impegni urgenti che mi attendono altrove». Si alzò anche lui, guardandomi in silenzio e scuotendo il capo con aria dispiaciuta. «Bene, bene», disse alla fine. «È un peccato, ma ho fatto quello che potevo. Conosco ogni sua mossa. Lei non può far niente fino a lunedì. È stato un duello fra noi due, signor Holmes. Lei spera di mandarmi sul banco degli imputati e io le dico che sul banco degli imputati non comparirò mai. Lei spera di sconfiggermi e io le dico che non mi sconfiggerà mai. Se lei è abbastanza furbo da distruggermi, stia pur certo che io farò la stessa cosa con lei». «Lei mi ha fatto molti complimenti, signor Moriarty», gli risposi. «Mi consenta ora di fargliene uno io, dicendole che, se potessi essere matematicamente certo della prima eventualità, accetterei a cuor leggero la seconda, nell'interesse della società». «Posso prometterle l'una, ma non l'altra», ringhiò e, voltandomi le spalle curve, uscì dalla stanza, strizzando gli occhi e sbattendo le palpebre. «Questo è stato il mio strano colloquio con il professor Moriarty. Le confesso che mi ha lasciato a disagio. Quel suo modo pacato e preciso di parlare mi convince della sua sincerità, più di quanto non lo farebbe un tono arrogante e aggressivo. Naturalmente lei dirà, perché non chiedere la protezione della polizia? Perché sono convintissimo che il colpo sarà sferrato da uno dei suoi agenti. Ne ho tutte le prove». «Ma l'hanno aggredita?» «Mio caro Watson, il professor Moriarty non è uomo che si lascia crescere l'erba sotto i piedi». Verso mezzogiorno mi sono recato ad Oxford Street per sistemare alcuni affari. Mentre svoltavo l'angolo che conduce da Venting Street all'incrocio di Welbeck Street, un furgone a due cavalli guidato da un pazzo fu sul punto di investirmi all'improvviso. Schizzai sul marciapiede e mi salvai per una frazione di secondo. Il furgone svoltò dietro Marylebone Lane e svanì in un lampo. Dopodiché continuai a procedere sul marciapiede, ma mentre percorrevo Veri Street cadde un mattone dal tetto di una delle case e mi si sbriciolò ai piedi. Chiamai la polizia e feci esaminare il posto. Sul tetto in questione erano state accatastate tegole e mattoni per effettuare alcune riparazioni e si finì col concludere che era stata colpa del vento. Ovviamente io ne sapevo di più, ma non ero in grado di provarlo. Successivamente presi un taxi e raggiunsi l'abitazione di mio fratello a Paul Mall, dove trascorsi la giornata. Adesso sono venuto da voi e strada facendo sono stato aggredito da un brutto ceffo con un bastone. Sono riuscito a stenderlo e la polizia l'ha sbattuto dentro, ma vi dico che non sarà mai scoperto nessun collegamento fra l'uomo contro i cui incisivi mi sono contuso le nocche e l'ex professore di matematica, il quale in questo momento scommetto che sta risolvendo i problemi sulla lavagna a 10 chilometri di distanza. Non vi meraviglierete quindi, Watson, che il mio primo pensiero, entrando nel vostro studio, sia stato quello di chiudere le persiane e di chiedervi il permesso di andarmene da un'uscita che desse meno nell'occhio della porta principale. Spesso avevo avuto modo di ammirare il coraggio del mio amico, ma mai come in quel momento, mentre se ne stava tranquillamente seduto a elencare una serie di incidenti che palesemente gli avevano fatto trascorrere un'orribile giornata. «Passerete la notte qui?» domandai. «No, amico, sarei un ospite pericoloso. Ho già dei progetti e tutto andrà per il meglio. Finora le cose sono scivolate via in modo tale che adesso potranno procedere senza il mio intervento fino al momento dell'arresto, quando la mia testimonianza sarà indispensabile per attestare la colpevolezza di quella gente. È ovvio, pertanto, che la soluzione migliore è andarmene via per qualche giorno, prima che la polizia sia in grado di agire in tutta libertà. E avrei un enorme piacere se voi veniste con me sul continente». «Il lavoro attualmente è di normale amministrazione», dissi. «E ho un collega che potrà sostituirmi. Accetto volentieri il vostro invito». «Siete disposto a mettermi in viaggio domani mattina?» «Sì, se è necessario». «Oh sì, assolutamente». «Allora, queste sono le istruzioni e vi prego, mio caro Watson, di seguirle alla lettera, perché adesso state giocando una partita a quattro mani assieme a me contro il furfante più intelligente e la congrega criminale più potente d'Europa». «Statemi a sentire. Stasera stessa, tramite una persona fidata, spederete tutto il vostro bagaglio senza etichette di sorta a Victoria Station. Domattina manderete a chiamare una vettura, dicendo al vostro incaricato di non scegliere né la prima né la seconda che si presenta. Monterete in vettura. Andrete fino al termine della strand di Lauter Arcade, porgendo l'indirizzo al vetturino su un foglio di carta, con la richiesta che non lo getti via. Preparate i soldi della corsa e, nell'istante stesso in cui la vettura si ferma, attraversate di corsa d'Arcade, calcolando di arrivare dall'altra parte alle nove e un quarto. Lì troverete un calessino vicino al marciapiede, guidato da un tale con un mantello nero. Salite e raggiungete Victoria in tempo per l'espresso del continente. E dove vi incontrerò? Alla stazione. La seconda carrozza di prima classe, partendo dalla locomotiva, sarà riservata per noi. Allora l'appuntamento è nello scompartimento. Esatto. In vano chiesi ad Holmes di trattenersi per la notte. Era evidente che il mio amico riteneva di rappresentare un pericolo per la casa che lo ospitava e quello era il motivo che lo costringeva ad andarsene. Dopo aver speso qualche altra parola in merito ai nostri progetti per l'indomani, si alzò ed uscì con me in giardino. Si arrampicò sul muretto che si affacciava su Mortimer Street e fischiò immediatamente per far arrivare una carrozza sulla quale lo sentì allontanarsi. Il mattino seguente obbedì minuziosamente alle sue istruzioni. Mi feci procurare la carrozza attenendomi a tali precauzioni che sarebbe stato impossibile cadere in una trappola preventivata e dopo colazione raggiunsi subito la Lauter Arcade che attraversai a gran velocità. Tromai subito il calesse con il vetturino ammantato di nero, il quale, non appena montai, frustò il cavallo e partì alla volta di Victoria Station. Quando scesi, invertì subito la direzione e schizzò via senza degnarmi neppure di un'occhiata. Fino a quel momento tutto era andato nella maniera migliore. Il bagaglio mi stava aspettando e non ebbi difficoltà nel trovare la carrozza indicatami da Holmes, anche perché era l'unica di tutto il convoglio con la scritta riservato. Adesso la mia sola fonte di ansietà era costituita dal fatto che Holmes ancora non si vedeva. L'orologio della stazione indicava che alla partenza mancavano solo pochi minuti e, in vano, cercai fra i capanelli di viaggiatori la slanciata figura del mio amico. Di lui non vi era traccia. Trascorsi gli ultimi pochi minuti nell'assistere un venerabile sacerdote italiano, il quale si stava sforzando di far capire al facchino, con il suo inglese sconclusionato, che le sue valigie dovevano arrivare fino a Parigi. Poi, dopo essermi dato un'altra occhiata in giro, tornai allo scompartimento, dove scoprì che il facchino, nonostante il biglietto, mi aveva assegnato il decrepito prelato italiano come compagno di viaggio. Era inutile che gli spiegassi che la sua presenza era abusiva dal momento che il mio italiano era ancora più limitato del suo inglese, così mi strinsi rassegnatamente nelle spalle e continuai a guardare ansiosamente fuori nella speranza di vedere il mio amico. Fui percorso da un tremito di paura, mentre si faceva strada dentro di me il timore che tale assenza potesse significare qualcosa di molto brutto, occorso gli durante la notte. Le porte del convoglio erano già state chiuse e il capostazione aveva fischiato, quando… «Mio caro Watson», disse una voce, «non vi siete neppure preso la briga di dire un buongiorno?». Mi voltai sbalordito. L'anziano ecclesiastico mi stava guardando. Per un attimo le rughe scomparvero, il naso si allontanò dal mento, il labbro inferiore non fu più cascante, le labbra avevano smesso di biascicare e gli occhi spenti avevano ripreso splendore. La figura cascante si raddrizzò. Un secondo dopo tutto il suo corpo ricadde come prima e Dolms era sparito con la stessa rapidità con cui era apparso. «Santo cielo!», esclamai. «Mi ha davvero spaventato!». «Le precauzioni non sono mai troppe ancora», sussurrò. «Ho motivo di ritenere che ci stiano alle calcagne. È comorirti in persona!». Mentre Holmes parlava, il treno si era già messo in moto. Guardando indietro, scorse un individuo alto che si faceva strada a spintoni fra la folla, agitando la mano quasi volesse fermare il treno. Ma era troppo tardi, però. Stavamo acquistando rapidamente velocità e un istante dopo eravamo fuori dalla stazione. «Come vedete, malgrado tutte le precauzioni ce l'abbiamo fatta per un pelo», disse Holmes ridendo. Si alzò, liberandosi dalla tonaca nera e dal cappello che avevano costituito il suo travestimento e riponendoli in una sacca da viaggio. «Ha visto i giornali del mattino, Watson? No. Allora non sa di Baker Street». «Di Baker Street? Ieri notte hanno appiccato il fuoco al nostro appartamento. Non ci sono stati molti danni». «Santo cielo, Holmes, è intollerabile!» «Dopo che il loro teppista col manganello è stato arrestato, devono aver perso completamente le mie tracce, altrimenti non avrebbero potuto pensare che fosse tornato a casa. Evidentemente hanno avuto la precauzione di tenere lei sotto sorveglianza, però, e questo ha portato Moriarty a Victoria. Non ha commesso errori venendo alla stazione, vero? No, ho fatto esattamente quello che mi ha detto lei». «Ha trovato la carrozza?» «Sì, mi stava aspettando». «Ha riconosciuto il cocchiere?» «No. Era mio fratello Mycroft. In casi del genere è un vantaggio poter agire senza l'aiuto di estranei. Ma adesso dobbiamo pianificare quello che dobbiamo fare per Moriarty. Questo treno è un espresso, e dato che ha la coincidenza con il traghetto, direi che ce lo siamo scrollato di dosso». «Caro Watson, evidentemente lei non mi ha capito bene quando le ho detto che quest'uomo è al mio stesso livello, intellettualmente. Non crederà che, se l'inseguitore fossi io, mi lascerei fuorviare da un impedimento così banale. Perché dunque lo sottovaluta tanto? E che cosa farà? Quello che potrei fare io. E lei che cosa farebbe? Non leggerei un treno speciale». «Ma ormai è tardi». «Niente affatto. Questo treno ferma a Canterbury. E c'è sempre almeno un quarto d'ora di ritardo al traghetto. Ci raggiungerà là». «Si direbbe che i criminali siamo noi, allora. Facciamolo arrestare appena arriva». «Manderebbe all'aria il lavoro di tre mesi. Prenderemo il pesce grosso, sì, ma i piccoli sguscerebbero dalle maglie della rete. Lunedì li avremo tutti. No, arrestarlo nemmeno a pensarci. E allora? E allora scenderemo a Canterbury. E poi? Poi dovremo arrivare a New Haven e da lì a Dieppe. Moriarty farà esattamente quello che farai io. Arriverà a Parigi, rintraccerà il nostro bagaglio e aspetterà per un paio di giorni al deposito. Frattanto noi ci concederemo il lusso di due sacche da viaggio di stoffa, incoraggiando l'industria locale, e ce ne andremo tranquillamente in Svizzera, via Lussemburgo e Basilea». A Canterbury, quindi, scendemmo dal treno, solo per scoprire che avremmo dovuto aspettare un'ora per prenderne un altro per New Haven. Stavo ancora guardando con certo rimpianto la carrozza dei bagagli che si allontanava rapidamente con tutto il mio guardaroba, quando Holmes mi tirò per la manica indicandomi un punto sulla strada ferrata. «Ci siamo già a vede?» disse. In lontananza fra i boschi del Kent si alzava un sottile sbuffo di fumo. Un momento dopo, un locomotore e un vagone sferciarono lungo la curva che porta alla stazione. «Facciamo appena in tempo a nasconderci dietro una catasta di valigie, quando ci passò davanti, sferragliando e investendoci con una vampata di aria calda. Eccolo che se ne va», disse Holmes mentre guardavamo il vagone che oscillava e sobbalzava sugli scambi. «Come vedete, anche l'intelligenza del nostro amico ha dei limiti. Sarebbe stato un coup de mettre se avesse dedotto quello che ho dedotto io e avesse agito di conseguenza. Che cosa avrebbe fatto se ci avesse raggiunti?» «Mi avrebbe attaccato per uccidermi, senza il minimo dubbio. Ma a questo gioco si può giocare in due. Ora si tratta di decidere se dobbiamo pranzare qui, anche se è presto, o rischiare di morire di fame prima di arrivare a New Haven. Quella sera ci spingemmo fino a Bruxelles, dove rimanemmo due giorni. Il terzo giorno arrivamo a Strasburgo. Il lunedì mattina Holmes aveva telegrafato alla polizia londinese e la sera trovammo la risposta che ci aspettava all'albergo. Holmes lacerò frettolosamente la busta e con un'amara imprecazione la buttò nel caminetto. «Dovevo immaginarmelo, gemette. È fuggito. Hanno preso tutta la banda tranne lui. Li ha seminati. Certo, dopo che ho lasciato il paese non era rimasto nessuno in grado di competere con lui, ma credevo proprio di averlo consegnato nelle loro mani. Penso che farebbe meglio tornare in Inghilterra, Watson. E perché? Perché adesso costituisco un pericolo. Quell'individuo ha perso la sua occupazione. Se torna a Londra è perduto e, se ben lo conosco, dedicherà tutte le sue energie a vendicarsi. Me lo ha praticamente detto durante il nostro colloquio e sono certo che parlasse seriamente. Le consiglio senz'altro di tornare dai suoi pazienti, Watson. Naturalmente era un consiglio del tutto inutile per chi, come me, oltre a essere un vecchio soldato, era anche un vecchio amico. Rimanemmo nella sala da pranzo di Strasburgo a discuterne per mezz'ora, ma la sera stessa eravamo di nuovo in viaggio, diretti a Ginevra. Per una deliziosa settimana percorremmo in lungo e in largo la Valle del Reno. Poi, con una deviazione alle Uc, ci dirigemmo verso il Passo Gemmi, ancora coperto di neve, e quindi attraverso Interlaken a Meiringen. Un viaggio piacevolissimo tra le pianure che cominciavano ad assumere il verde della primavera e le vette ancora candide per l'inverno. Ma mi resi perfettamente conto che mai, neppure per un attimo, Holmes dimenticò l'ombra che incombeva su di lui. Nei raccolti villaggi alpini e nei solitari passi di montagna, le sue occhiate rapide e furtive e il suo sguardo scrutatore su ogni viso che incontravamo, mi diceva come fosse assolutamente convinto che dovunque ci recassimo non avremmo mai potuto liberarci dal pericolo che ci pedinava passo per passo. Ramento che una volta, mentre attraversavamo il Gemmi, incamminandoci lungo la sponda del malinconico Daubenzee, un grosso masso staccatosi da un costone alla nostra destra rotolò giù finendo con un tonfo nel lago dietro di noi. In un momento Holmes si era inerpicato sul costone e rito su un alto spuntone di roccia scrutò attentamente in tutte le direzioni. In vano la nostra guida gli assicurò che, in quel punto, la caduta di massi era un fenomeno usuale in primavera. Non disse nulla, ma mi sorrise con l'aria di chi vede avverarsi le sue previsioni. Ma, pur rimanendo sempre allerta, non era mai depresso. Al contrario, non ricordo di averlo visto prima di un umore così esuberante. Non faceva che ripetere che, se avesse potuto essere certo che la società si era liberata di un individuo come il professor Moriarty, non avrebbe avuto alcun rimpianto a chiudere la propria carriera. «Penso, Watson», mi disse, «che potrei addirittura affermare di non essere vissuto in vano. Se dovessi smettere la mia attività questa sera stessa, potrei ancora ripercorrerla mentalmente con la coscienza tranquilla. L'aria di Londra è resa più respirabile della mia presenza. Negli oltre mille casi di cui mi sono occupato, non ricordo di aver mai sfruttato le mie capacità a vantaggio della parte sbagliata. In questi ultimi tempi sono stato tentato di esaminare i problemi che presenta la natura, anziché quelli superficiali di cui è responsabile il nostro artificioso ordinamento sociale». Le sue memorie, Watson, si concluderanno il giorno in cui coronerò la mia carriera con la cattura o l'estinzione del più pericoloso e abile criminale esistente in Europa. Sarò breve, anche se preciso, nel raccontare quel poco che mi resta da dire. È un argomento sul quale non mi trattengo volentieri, ma mi rendo conto che ho il dovere di non omettere alcun particolare. Era il 3 maggio, quando raggiungimmo il piccolo villaggio di Meiringen, prendendo alloggio all'English Roof. Il direttore, Peter Steyler Senior, era un uomo intelligente che parlava un inglese eccellente, poiché per tre anni era stato cameriere al Grossvenior Hotel di Londra. Dietro suo consiglio, il pomeriggio del 4 ci avviamo insieme con l'intenzione di oltrepassare le colline e per notare nel paesino di Rosenlauwe. Ci raccomandò però di non superare le cascate di Reichenbach, circa a metà della strada delle colline, senza fare una piccola deviazione per ammirarle. In effetti, lo spettacolo era straordinario e terribile allo stesso tempo. Il torrente, gonfiato dallo scioglimento delle nevi, si tuffa in un abisso spaventoso dal quale la spuma si alza come il fumo da una casa che sta bruciando. La fessura entro cui precipita il fiume è un'immensa voragine solcata da nere rocce scintillanti, che si restringe poi in una cavità spumeggiante e ribollente di profondità incalcolabile, da cui il fiume trabocca e rigonfia le sue acque sul bordo dentellato. Quell'alta cortina di acqua verde, che precipita incessantemente ruggendo verso il basso, e la spessa, tremolante cortina di schiuma, che incessantemente si proietta sibilando verso l'alto, danno le vertigini con il loro continuo rughiante turbinare. Ci fermammo sul bordo a guardare sotto di noi il luccichio delle acque che si infrangevano sulle rocce nere e ad ascoltare il grido quasi umano che, insieme con la spuma, saliva rimbombando dalla voragine. Il sentiero è stato tagliato a mezza strada intorno alla cascata per consentirne una veduta panoramica, ma poi si interrompe bruscamente e il viaggiatore deve ritornare sui suoi passi. Così stavamo infatti facendo, quando vedemmo arrivare di corsa un ragazzo svizzero con una lettera in mano. La lettera portava il timbro dell'hotel che avevamo appena lasciato ed era indirizzata a me, da parte del proprietario. A quanto sembrava, pochi minuti dopo che ce ne eravamo andati, era arrivata una signora inglese all'ultimo stadio della consuzione. Aveva svernato a Davos Platz e si era messa in viaggio per raggiungere degli amici a Lucerne, quando era stata colpita da una violenta emorragia. Si temeva che non sarebbe sopravvissuta che poche ore, ma che sarebbe stato per lei un gran sollievo vedere un medico inglese e quindi se potevo essere così gentile da rientrare, eccetera. In un po' scritto, il buon Steiler mi assicurava che lui personalmente l'avrebbe considerato un gran favore dal momento che la signora rifiutava assolutamente di farsi visitare da un medico svizzero e lui sentiva che si stava assumendo una grossa responsabilità. Era un appello che non si poteva ignorare. Impossibile respingere la richiesta di una compatriota morente in terra straniera. Ma avevo i miei scrupoli a lasciare Holmes. Alla fine rimanemmo d'accordo che lui avrebbe trattenuto con sé il ragazzo svizzero come compagno e guida mentre io tornavo a Meiringen. Lui sarebbe rimasto per un po' alle cascate, disse. Poi si sarebbe avviato con calma verso Rosenlauwe, dove io l'avrei raggiunto in serata. Mentre me ne andavo, vedi Holmes appoggiato con le spalle a una roccia, a braccio a concerti, che osservava il turbinare delle acque giù in basso. Era l'ultima volta che il destino mi avrebbe concesso di vederlo. Quando arrivai quasi in fondo alla discesa, mi voltai, ma da quel punto era impossibile scorgere la cascata. Si vedeva però il sentiero che, curvando, si inerpica lungo la dorsale delle colline e porta alla cascata. Ricordo che, lungo quel sentiero, vedi un uomo che camminava molto rapidamente. Ne vedevo la sagoma scura stagliata contro il verde dei prati. Lo notai come notai il suo passaggio agile e deciso, poi mi passò di mente, mentre mi affrettavo verso la mia destinazione. Ci vuole forse poco più di un'ora prima di arrivare a Meiringen. Il vecchio Steiler stava nel porticato dell'albergo. «Eccomi», dissi accelerando il passo. «Spero che non ci sia stato un ulteriore peggioramento». Un'espressione di sorpresa si dipinse sul volto dell'uomo, e non appena lo vidi aggrottare il ciglio, ebbi l'impressione che il cuore mi scoppiasse in mezzo al petto. «Allora non siete stato voi a scrivere quella lettera», gridai, sfilando la missiva di tasca. «Non c'è nessuna signora inglese ammalata nell'albergo». «Certo che no», fu la risposta. «Ma vedo la nostra intestazione». «Ah, deve essere stata scritta da quell'inglese alto che è arrivato dopo la vostra partenza». «Ma io non stetti ad ascoltare nessuna spiegazione». In preda al panico stavo già ridiscendendo il paese per rimettermi sulla strada percorsa poco prima. Mi c'era voluta un'ora per scendere, e nonostante ci dessi dentro, con tutte le mie forze, passarono due ore, prima che mi trovassi di nuovo in prossimità alle cascate di Reichenbach. C'era ancora il bastone di Holmes appoggiato alla roccia accanto alla quale l'avevo lasciato, ma di lui non c'era traccia, e le mie urla caddero nel vuoto. A rispondermi era solo l'eco che saliva da quel tumultuoso abisso. Ho la vista del bastone che mi fece ulteriormente gelare il sangue nelle vene. Holmes non era andato a Rosenlaue allora. Era rimasto su quell'angusto sentiero, con un muro di roccia da una parte e il precipizio dall'altra, finché il suo nemico non lo aveva raggiunto. Anche il giovane svizzero non c'era più. Probabilmente era stato assoldato da Moriarty e aveva lasciato i due uomini da soli. E poi, che cosa era successo? Chi avrebbe raccontato che cosa era successo a quel punto? Rimasi immobile per un paio di minuti, cercando di connettere, poiché l'orrore di quella situazione mi aveva letteralmente impietrito. Poi cominciai a pensare ai metodi di Holmes e a cercare di metterli in pratica nel tentativo di leggere questa tragedia. Purtroppo, l'impresa risultò fin troppo facile. Durante la nostra conversazione non ci eravamo mai spinti fino alla fine del sentiero e il bastone da montagna indicava il punto dove ci eravamo fermati. Il terreno nerastro era mantenuto costantemente umido dagli schizzi di schiume e anche un uccellino avrebbe lasciato una traccia nel suo posarsi. In fondo erano chiaramente visibili due linee ed impronte che si allontanavano, ma nessuna tornava indietro. A pochi metri dal termine del biottolo si era formata una pozza di fango e le felci e le alte erbe che delimitavano l'abisso erano strappate e ammaccate. Mi chinai a faccia in giù e cercai di guardare attraverso quel turbinare di schiume che mi circondava. Si era ormai fatto quasi buio e riuscivo a vedere ben poco, oltre al riverbero dell'acqua che si precipitava verso il fondo. Gridai, ma soltanto l'urlo della cascata arrivò in risposta. Tuttavia era destino che ricevetti un'ultima parola di comiato dal mio carissimo amico. Come ho detto, il bastone era appoggiato contro la roccia che delimitava il sentiero, ai piedi della quale qualcosa di luminoso attirò la mia attenzione. Era il portasigarette d'argento che il mio amico Holmes portava sempre con sé. Mentre lo raccoglievo, scivolò a terra un riquadro di carta su cui era appoggiato. Lo dispiegai e mi accorsi che era costituito da tre pagine, strappate dal suo taccuino e indirizzate a me. Tipico dell'individuo, la scrittura era chiara e precisa, come se quel messaggio fosse stato redatto nella tranquillità del suo studio di Baker Street. Il biglietto diceva «Mio caro Watson, vi scrivo queste poche righe per gentile concessione del signor Moriarty, che aspetta la mia disponibilità per quella famosa discussione finale su quelle questioni sospese fra noi». Il professore mi ha fornito uno schizzo dei metodi grazie ai quali ha evitato la polizia inglese e si è tenuto al corrente dei nostri movimenti. Ciò conferma ovviamente la grande opinione che mi ero formato in merito alle sue capacità. Mi fa piacere pensare che sarò in grado di liberare la società da qualsiasi ulteriore effetto della sua presenza, benché temo sia a un prezzo che procurerà un gran dolore ai miei amici e soprattutto a voi, mio caro Watson. Tuttavia, vi ho già spiegato che la mia carriera aveva in ogni caso raggiunto il suo apice e che nessuna conclusione avrebbe potuto essermi più congeniale di questa. E in effetti, se proprio voglio essere sincero fino in fondo, nutrivo già il sospetto che quella lettera da Myringen fosse una trappola e ho consentito che voi vi allontanaste nella convinzione che si sarebbe verificato proprio un epilogo di questo genere. Riferito all'ispettore Patterson che i documenti di cui necessita per far condannare tutta la banda sono reperibili nella casella M, racchiusi in una busta blu con la scritta Moriarty. Prima di lasciare l'Inghilterra ho preso tutte le disposizioni relativamente alle mie proprietà, disposizioni che ho affidato a mio fratello Mycroft. Vi prego di porgere i miei saluti alla signora Watson e voi riceverete tutto il mio affetto. Un abbraccio. Sherlock Holmes A questo punto poche parole potrebbero bastare a dire il poco che resta. Da un esame eseguito dagli esperti emerge la quasi certezza che l'incontro sia terminato, come era prevedibile in un simile contesto, in una colluttazione in seguito alla quale i due uomini, avvinghiati, sono rotolati nell'abisso. Qualsiasi tentativo di recuperare i corpi era assolutamente senza speranza e laggiù, fra quel turbinio di schiuma e mulinelli, riposarono per sempre il più pericoloso criminale e il più valido paladino della giustizia della loro generazione. Il ragazzo svizzero non fu più rintracciato e non c'è dubbio che si sia trattato di uno dei numerosi agenti che Moriarty teneva le sue dipendenze. Per quanto riguarda la banda, i lettori ricorderanno quale peso abbia avuto sulla condanna, la completa documentazione lasciata da Holmes e quanto implacabilmente la mano del defunto abbia pesato sui loro destini. Del loro temibile capo, pochi dettagli sono emersi nel corso del processo. E se adesso sono obbligato a fare una chiara definizione della sua carriera, ciò è dovuto al deplorevole comportamento di quei paladini che si sono sforzati di riabilitarne la memoria, gettando discredito su colui che io considererò per sempre l'uomo più saggio e meritevole che abbia mai conosciuto.